aveva deciso che doveva ripulire la zona da due personaggi che spacciavano droga e che avrebbero portato sulla cattiva strada una giovane ragazza e così si è presentato a casa loro qualificandosi come appartenente alle forze dell'ordine esibendo una paletta della polizia di stato ed una volta dentro l'appartamento ha sparato prima con una pistola ad un uomo di 31 anni ferendolo gravemente al mento poi con un fucile a canne mozza ad un 23enne colpendolo al ginocchio quest'ultimo ha tentato la fuga ma veniva raggiunto in strada sul marciapiede e qui più volte pugnalato al collo con una sorta di roncola tutto accadeva il 10 aprile scorso a Tortona l'autore dell'aggressione un 56 anni italiano di professione calzolaio ma che aveva deciso così come nel film taxi driver che doveva ripulire la città dai delinquenti nella fattispecie due giovani africani le indagini avviate nell'immediatezza anche attraverso i rilievi effettuati dalla sezione investigazioni scientifiche hanno consentito sin dall'inizio di indirizzare le di indirizzarsi verso quello che poi è stato identificato quale autore di questo grave delitto grazie anche alle segnalazioni dei cittadini che sono sempre fondamentali in tutte le circostanze che appunto ci hanno sin dalle prime fasi delle indagini indirizzato in merito proprio all'aspetto puramente investigativo ha già più o meno sulla dinamica ha già riferito il generale posso dire una cosa comunque che la difficoltà dell'indagine come tante come tante volte anche altre indagini è quella quando non si riesce a individuare il circuito cioè quando il soggetto l'autore diciamo del del fatto è fuori il circuito relazionale delle vittime quello è molto importante perché noi di solito le tutte le indagini sono di fatti gravi partiamo sempre ovviamente studiando il circuito relazionale cioè il vissuto della vittima le frequentazioni in questo caso abbiamo avuto questa difficoltà a risolvere la vicenda ai carabinieri del nucleo investigativo di alessandria con il supporto dei colleghi tortonesi erano stati colpi d'arma da fuoco e le urla delle due vittime a richiamare l'attenzione dei cittadini che avevano chiamato le forze dell'ordine che giunte sul posto si erano trovate con due persone gravemente ferite che poi sono state ricoverate agli ospedali di tortona in prognosi riservata uno dei due quello colpito con il fucile a canne mozze ha perso una gamba dopo giorni di indagine grazie appunto anche le segnalazioni dei cittadini che avevano fornito una descrizione precisa dell'uomo i carabinieri si sono presentati a casa sua e lo hanno arrestato prima per detenzioni di armi da fuoco clandestine ed alterate lui non ha posto resistenza perché ha detto lucidamente ai militari che si erano presentati alla sua porta non voleva coinvolgere la persona con la quale si trova in casa se fosse stato solo ha ribadito avrei sparato arrestato l'uomo ora si trova in carcere in attesa di giudizio l'attività parallela ha permesso di ritrovare nell'appartamento delle due vittime anche della droga e così il 23enne della guinea è anche accusato del reato di spaccio un'attività che gestiva da circa un anno nel tortonese è un'attività che si trova in casa